Spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorsa, 20 le persone che sono rimaste ferite. Come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. Il barbaro assassino del generale della chiesa e della sua giovane moglie ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.